Chieri amici, buona serata. Oggi, sabato 26 gennaio, si chiude una giornata che è stata caratterizzata da toni molto aspri nella politica e nella finanza. Io avevo ieri focalizzato la mia attenzione su quell'investimento di un miliardo di euro remunerato al 10% ad investitori che non si conoscono presso il Monte dei Paschi di Siena. Il Monte dei Paschi di Siena tiene ancora a banco e faccio notare solo un particolare. 10 miliardi l'acquisto di Banca Anton Veneta, il 10% di 10 miliardi è un miliardo, quella che qualcuno dice sia la percentuale delle tangenti sotto varia forma correnti adesso in politica. Nel frattempo esce la notizia che la magistratura sta cercando una tangente di 2 miliardi sempre su questo affare. Non viene sottolineata abbastanza la dichiarazione di Visco, il governatore della Banca d'Italia. Noi non siamo la polizia criminale, quindi come dire, i criminali li deve cercare la magistratura. La magistratura li sta cercando però ci dice, ci fa sapere che il verdetto arriverà dopo le elezioni. E questo crea qualche perplessità perché a questo punto non si influenzeranno le elezioni, ma potremmo trovarci di fronte a qualche criminale eletto in Parlamento. E dopo sarà bello vedere se questo signore si dimetterà dal Parlamento o si dimetterà soltanto dal gruppo al quale magari appartiene e se ne va al gruppo misto con i benefici che ci sono per i gruppi parlamentari, perché non sono stati abrogati quei benefici. Toni alti anche nella politica. Allora Beppe Grillo continua a sparare a zero, per me giustamente. Berlusconi fa sapere che non c'è nessun dialogo con Monti. Bersani, il leone Bersani a questo punto, dice per carità non ci dite che siamo disonestri altrimenti vi sbraniamo. Perfetto. Dopodiché fa un'affermazione che mi ha lasciato un po' perplesso. Un attimo che la trovo, ma mi sembra abbia detto che se qualcuno ha preso delle tangenti bisogna scendere in campo con il Badile. Ieri ero rimasto all'olio di ricino, comunque scenderemo in campo col Badile. Monti è sempre meraviglioso. Monti ci fa sapere che farà un'alleanza con il PD o anche con il PDL. È la stessa cosa in pratica. Però non ci deve essere né Berlusconi né persone che non siano riformiste. Vendola non lo vuole. Insomma, vabbè. Ci poteva anche dire le liste come dovevano essere formate. Che altro c'è? Maroni. Tra Monti e il PD c'è accordo e questo lo penso io. Ah, poi arriva Casini. Casini, meraviglioso. Monti ha salvato l'Italia. Ma, ieri ha affermato, se non ci fosse stato Monti noi saremmo stati come la Grecia. Io dico che se non ci fossero stati Casini e persone come lui, noi saremmo forse come la Germania. Vabbè, finisce questa giornata dai toni aspri. Io continuo l'analisi del bilancio 2011 del Monte dei Paschi di Siena. E già ho trovato delle cose interessanti. Ma questo è un altro discorso e ne parleremo poi. Buona domenica, amici!